Negli ultimi anni si è vista una chiara e soddisfacente evoluzione nel mondo del turismo da quello che per tanti anni era considerato un mestiere a quello che oggi ne consideriamo una professione. Di fatto abbiamo una ricerca di personale neolaureato annuale al quale rispondono circa 250-300 candidati e ogni anno assumiamo 5-6 neolaureati, come chiamiamo, che sono messi in un percorso accelerato di apprendimento di questo che oggi è una professione e non più un mestiere.